ciao drummer in questo video volevo entrare nel dettaglio di una caratteristica molto importante che ogni bacchetta di buona qualità possiede e cioè dello sweet spot come è chiamato in inglese sweet spot potrebbe essere traducibile in punto debole, punto chiave, punto dolce invece io per quanto riguarda il discorso della bacchetta mi sento di tradurlo in punto mite perché voglio spiegarti perché voglio parlare in questo video di questo dettaglio molto particolare perché aiuta a capire meglio l'importanza del fulcro e del bilanciamento della bacchetta allora devi sapere che una volta che la bacchetta colpisce la pelle che ho da suonare o qualsiasi superficie che ho da suonare questa superficie incomincia a vibrare con una certa frequenza le vibrazioni vengono trasmesse a sua volta alla bacchetta e la bacchetta stessa incomincia a vibrare diciamo con un andamento a s e a una certa frequenza ci sono dei punti della bacchetta però che vibrano con una maggiore intensità con questa forma a s diciamo così e questi punti in cui vibrano con maggiore intensità si trovano esattamente al centro e alle estremità della bacchetta stessa ci sono comunque dei punti in cui questa vibrazione è molto minore quasi nulla questi punti si trovano a metà strada tra il centro e le estremità quindi se il centro è qua e le estremità sono qua i punti in cui si ha vibrazione quasi nulla si trovano a metà strada tra il centro e le due estremità quindi più o meno a un terzo dalla coda e più o meno a un terzo dalla punta della bacchetta questi punti in cui c'è vibrazione quasi nulla si chiama prende il nome di nodo di risonanza e in inglese hanno dato il nome prende il nome di sweet spot ed è appunto guarda caso è il punto esattamente dove si prende in considerazione il fulcro della bacchetta infatti tenendo in mano la bacchetta in un punto diverso da questi punti dove c'è una vibrazione minima l'energia della bacchetta verrà trasmessa inevitabilmente alle mani creando col tempo dolori ed affaticamento invece mantenendo la bacchetta in questi punti dove c'è una vibrazione minima sarà in grado di suonare per più tempo o per più veloce e con il rischio di andare incontro nel tempo di dolori, affaticamento e tendiniti si ridurrà drasticamente praticamente vicino allo zero io ho voluto dare un'ulteriore spiegazione ho voluto entrare più nel dettaglio di questo particolare di questa caratteristica della bacchetta che viene spesso sottovalutato per far capire appunto meglio l'importanza del fulcro e del bilanciamento della bacchetta stessa questa caratteristica ripeto è presente in qualsiasi bacchetta di una certa qualità naturalmente varia da modello a modello ma diciamo che più o meno appunto si trova sempre nella stessa posizione cioè a un terzo dalla coda o a un terzo dalla punta quello che interessa al batterista è quello che si trova a un terzo dalla coda perché appunto corrisponde guarda caso al bilanciamento della bacchetta e corrisponde guarda caso anche alla scelta del fulcro della bacchetta stessa bene questo video finisce qui io spero che tu abbia trovato come al solito delle notizie utili o quantomeno di ispirazione ti ricordo di seguirmi sui miei canali social facebook e instagram e di visitare il mio blog www.inpunaturabacchette.com naturalmente clicca mi piace a questo video iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao